Quindi un mesetto fa abbiamo iniziato a cercare una foto di Pippo da solo, non si è trovata, non c'è stato verso, è sempre in mezzo alla gente. Per cui voi dovete anche dire cosa dobbiamo fare, questo non è retorico ma è veramente così che deve essere costruito un partito, non viene il compagno da Roma. Il punto di vista che deve conservare un dirigente politico è sempre quello di elettore prima di tutto e questa è la confusione, io li vedo, ma poco a poco si staccano e non li prendi più. Mi sono sentita tradita e abbandonata da quello che consideravo il mio partito e ero ad un passo da entrare nel partito di quelli che si astengono. Tuttavia ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere Giuseppe Civati e tutte le persone che sul territorio milanese lo seguivano. rappresentavano allo stesso tempo la mia delusione verso la politica ma anche la mia speranza verso un futuro possibile. Che alla fine della nostra legislatura la disuguaglianza si sarà ridotta e quegli indicatori della disuguaglianza saranno cambiati. La disuguaglianza è determinata da condizioni materiali, dalla scuola, dalla scuola, bisogna ripetere tante volte e la terza cosa sono proprio quelle relazioni amicali, per cui si scopre che uno di buona famiglia rimane di buona famiglia e ne fa un'altra di buona famiglia perché è più ricco, perché può studiare di più e perché ha un sacco di amici che gli consentono di fare così. Cambiamo questo modello. Usa sempre il noi ed è una cosa molto bella e non è comune. Tutto questo è la mozione, il progetto è sempre stato portato avanti da persone che ci credono e lui è sempre un primus inter pares. Questa è la differenza sostanziale. Io ho trovato incivati questo, onestà intellettuale, uno che dice le cose che pensa, uno che ti chiede cosa ne pensi te, quali sono i tuoi problemi e viceversa. Io sto male, io in Parlamento sto male da sei mesi. La mia proposta è che noi tutto l'anno abbiamo un rapporto costante con voi. Questa è una struttura dedicata a un pontefice, il pontefice che c'è adesso telefona a casa, lui si fa vivo. Noi tendiamo a non mantenere questo rapporto, a non spiegare le cose, a non chiedere ai nostri iscritti, ai nostri militanti, ai nostri lettori che cosa pensano. A volte lo sappiamo benissimo che cosa pensano e facciamo il contrario. È perché è successo così, è successo così quest'aprile, è successo tante e troppe volte in questi mesi. Ieri sera io avrei citato l'attimo fuggente, che a me mi ha rovinato l'adolescenza, perché è sì, perché l'attimo fuggente. A un certo punto il professore spiega che ci si può anche alzare e salire sui banchi, no? Perché c'è un motivo per farlo, perché non tiene più, perché senti una contraddizione troppo forte. Non è che pensi che devi votare come il gruppo, certo che devi votare come il gruppo. E infatti l'ho fatto sulla Cancellieri e da allora giro sotto scorta, perché i grillini mi vogliono menare, no? Cioè apro i Twitter e ci sono dodici che dici, sei uno stronzo, grazie, hai ragione, sei gentilissimo. Però a un certo punto io ho detto, vabbè qui bisogna salire sul banco e ci ho pensato e pensavo di non essere il solo a salire sul banco e invece sono salito da solo. Però è questo il senso di una rivolta che è politica, che è razionale anche, non è solo di sentimento, che vede le cose andare in una certa direzione, che vuol dire non va bene, dateci retta per una volta, ascoltateci, che insieme possiamo cambiare le cose, perché se no è solo, sapete chi decide? Quelli che decidono sempre, che a un certo punto non sappiamo nemmeno più dove sono, perché io non so dove prendono le decisioni. Guardate che questa è la questione del secolo, chi prende le decisioni dove, in rappresentanza di che cosa e di chi. Questa è la domanda dell'alto di me. Sulla TAV, proprio chi frequenta Lione sa che è del tutto inutile, basterebbe fare un po' di TAV fino, senza scavare niente, fino al frecius, poi uno con calma si fa il frecius e un pochino fuori. La TAV di Valisusa non serve, è troppa, è proporzionata. Guardate che non lo dicono quelli che tirano i sassi, lo dicono quelli che tirano i numeri, il PowerPoint, le slide, quelli della Bocconi lo dicono ormai.